Quest'anno lo faremo di più, per sfogare un pochino i vostri, mi fate un bel, io faccio uno, due, tre, poi mi fate un forza parma, ma quindi, eh, mi raccomando, quindi, allora, siete pronti? Un attimo di silenzio, silenzio, allora, ci siete? Allora, mi raccomando, eh, pronti? Uno, due, tre. Allora, si può fare un pochino di più, eh? La salla è qui davanti, mi raccomando, io sono stato un assaliano da tante tempo fa, quindi mi raccomando e voglio sentire, eh? Allora, anche tutti gli altri, per carità. Allora, sì, allora intanto, vediamo, con le premiazioni ci rivedremo, ovviamente, eh? Allora, questo qui è una prova, non va bene, eh? Allora, mi raccomando, eh? Voglio sentirvi, uno, sì, no, faccio un'altra, quella era una prova, eh? Allora, prima che arrivi uno dei comandanti del Parma, Luca Carra, che, eccolo qui, sì, io uso dei termini così, ma perdonatemi, per farmi capire nel linguaggio. Allora, siete pronti? Uno, due, tre, pronti? Allora, pronti? Uno, due, tre, va bene. Giancarlo, direi che, va bene, va bene.